Mobili a Megastore La vostra felicità ci sta a cuore Voi là Flavia, dove vai? Volevo andare a mare ma... Ma ti accompagno io al mare Tu, ma quest'auto la sai guidare? Come no, pensa che io da piccolo sognavo di fare il pilota di Formula 1 Sognavi? E mentre mi accompagno a mare, forse voi guardatevi le nuove offerte di Mobili a Megastore Parete in finitura noce con ante, vetro e cassetti a soli 990 euro Parete da 2,70 metri con cestelli e ante, vetro a soli 1190 euro Armadio a 6 ante, anticato, avorio con cassettiera e specchi interni a soli 690 euro Che puoi pagare fino a 48 mesi a tasso zero Oppure senza anticipo in 60 mesi con prima rata a gennaio 2011 E come regalo puoi scegliere tra tv, lcd, widescreen, pc portatile, divano due posti O per gli sposi un pacco corredo Damiano, e allora? Eh boh, qui vedo che tutto è a posto, non manca niente Ma c'è la benzina? La benzina, è vero, mi sono dimenticato di farla Fai il pieno della convenienza con le offerte di Mobili a Megastore Qualità, convenienza e professionalità al servizio del cliente sempre